Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vortice atlantico si muoverà verso il Mediterraneo meridionale posizionandosi tra la Tunisia e la Sicilia mentre al nord ritornerà gradualmente il bel tempo grazie alla rimonta anticiclonica. Ne conseguirà un peggioramento del tempo sulle regioni meridionali con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sulle regioni ioniche con venti moderati di scirocco. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio le previsioni per domenica 29 gennaio. Cielo molto nuvoloso coperto comprime deboli pioviggini da metà giornata su arco ionico e settori centro meridionali della regione. Piogge localmente più intense soprattutto dal pomeriggio nelle suddette zone. Miglioramento invece dalla serata. In Basilicata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge tra arco ionico, materano e al confine con la Puglia. Dalla grafica possiamo notare che le temperature risulteranno stazionarie nei valori massimi in aumento invece nei valori minimi. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali per quanto riguarda i mari invece essi saranno poco mossi o quasi calmi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia che ci manda questa meravigliosa foto del tramonto sul Monte San Vito, sull'Appennino d'Auno. Traspare dalla foto un senso di vera tranquillità. La Puglia ci mostra sempre scenari fantastici. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo appuntamento.